Per voi farò anche questo, per voi soffrirò il caldo. Perché? Perché in questo momento per fare il video di questo dispositivo ho dovuto disattivare il climatizzatore e sta facendo veramente caldo. Benvenuti quindi nella recensione di Tado Climatizzatore seconda versione. Si tratta appunto di una versione rinnovata di un prodotto che esteticamente non cambia affatto, quindi è totalmente indistinguibile, va appunto a sostituire la precedente versione che io ho utilizzato a lungo per tutta la scorsa estate e anche per questo inverno per controllare lo splitter in modalità calore. Si tratta sostanzialmente di un controller per il vostro splitter, per il vostro anche volendo condizionatore portatile. Lo si acquista ovviamente, lo si collega alla presa elettrica tramite una porta micro usb qua dietro ed è possibile anche avvolgere il cavo attorno a queste piccole protuberanze in plastica per poi farlo uscire piatto in modo che il cavo rimanga il più invisibile possibile. Potete se volete poggiarlo su un piano o attaccarlo al muro. L'importante è che sia in linea d'aria visibile con il vostro splitter e è totalmente coperto da, vedete, porte infrarossi. Una frontale che gira anche sui lati, una sotto e anche una sulla parte superiore. Quindi in sostanza lui emetterà infrarossi per controllare il vostro splitter a 360 gradi, a parte ovviamente sulla parte posteriore. Quindi lo collegate e l'installazione di questa seconda versione è diventata molto più semplice. Adesso non dovete più fare tantissimi test come prima, dovrete semplicemente scegliere la marca del vostro splitter e poi puntare il telecomando verso questo tado climatizzatore e dare un paio di comandi e la configurazione è terminata. Decisamente più veloce di quella precedente che richiedeva invece circa un quarto d'ora. Questo però ha anche un lato negativo, un aspetto negativo che è la non compatibilità con i condizionatori più vecchi e in questo caso è molto semplice capire quali sono. Sono compatibili tutti quelli che hanno un telecomando con display che indica anche informazioni sulla potenza delle ventole o sull'inclinazione delle ventole. Quindi se il vostro telecomando non ha un display o ha un display che mostra solo e soltanto la temperatura non è compatibile con questo tado, altrimenti è compatibile. Quindi è molto più semplice da questo punto di vista, non dovete fare molti passaggi però qualche climatizzatore più vecchio potrebbe rimanere tagliato fuori. Quindi in sostanza potete controllare la temperatura grazie all'interfaccia web o grazie al vostro smartphone. Voi impostate la temperatura e lui la invia al climatizzatore. In questo caso ovviamente è una semplificazione ma ci sono anche degli altri grossi vantaggi. Il vantaggio più grosso, che è la vera novità di questo secondo me tado versione seconda rispetto alla precedente, è la modalità termostatica. In questo modo sostanzialmente andate a sostituire il vostro splitter come termostato. È lui che si occupa di andare a capire qual è la temperatura della vostra stanza, essendo posizionato probabilmente più in basso anche in modo più corretto rispetto a quanto può fare lo splitter e al dire allo splitter a che temperatura impostarsi. Quindi sostanzialmente se voi impostate 26 gradi ma nella stanza c'è una temperatura altissima lui deciderà se è il caso di spingere un po' di più, se è il caso di invece spegnere totalmente il climatizzatore se la temperatura è stata raggiunta e riaccenderlo se dovesse variare. Quindi sostanzialmente sì, quello che fa già il vostro splitter è un'autonomia ma utilizzando dei dati che raccoglie lui in maniera più precisa, tra le altre cose in un punto migliore della vostra stanza come vi dicevo, che è quella diciamo ad altezza duomo e non quella vicino al soffitto dove probabilmente è posizionato. In questo modo tra l'altro c'è un oggettivo vantaggio, quando la temperatura è raggiunta lo splitter viene spento totalmente cosa che ovviamente non può fare lo splitter stesso perché non potrebbe riaccendersi, quindi c'è un oggettivo vantaggio. Quindi lui non fa semplicemente da trasmettitore della temperatura che avete impostata ma ha un sistema un pochino più intelligente che si occupa lui di decidere quale temperatura, quale potenza inviare allo splitter. Mi è sembrata una bella idea e l'ho vista funzionare anche molto bene. Quindi una totale autonomia oppure scegliete voi la temperatura dal vostro smartphone disattivando, è possibile anche se volete disattivare la funzione, in questo caso la funzione termostatica e far sì che sia semplicemente una replica del vostro telecomando come era in sostanza il Tado di prima versione. Infine, se non avete lo smartphone a portata di mano, magari c'è in casa soltanto qualcuno che non è abilitato all'accesso, c'è anche uno schermo qua sotto, touch, che permette di variare la temperatura e di variare le impostazioni direttamente da qui. In più, un altro vantaggio, ovviamente questi sono tutti i vantaggi comuni alla precedente versione, quindi vado un po' veloce, è anche la geolocalizzazione, la possibilità di impostare quindi una programmazione che può essere anche di tenere acceso sempre il climatizzatore ma con una variabile, solo se io sono in casa, solo se almeno un componente della famiglia è in casa. Basandosi sulla posizione del proprio smartphone, quindi nel momento in cui tutti escono di casa, il condizionatore, il climatizzatore va a spegnersi e si riattiva appena il primo si sta avvicinando o è entrato in casa. È una cosa molto intelligente, non tanto per l'acclimatizzazione invernale che magari può essere utile, magari io me lo immagino di più in un negozio o in un ufficio, quanto se utilizzate il vostro splitter per scaldare la casa d'inverno. E questo infatti è una possibilità, ovviamente potete utilizzarlo se il vostro splitter supporta anche, è un inverter e quindi può anche scaldare la vostra abitazione, lui ovviamente può fare anche questo e si controlla tutto direttamente dall'app. Potete ovviamente dare accesso ad altre persone, come vi ho detto potete fare una programmazione, quindi potete scegliere non tutto il giorno ma magari in una certa fascia oraria che rimanga spento del tutto anche se c'è qualcuno in casa, oppure di variare temperature diverse per diversi momenti del giorno o anche diversi giorni della settimana se magari volete che parta prima il fine settimana o parta dopo, insomma tutte le varie possibilità che potete semplicemente immaginarvi. Ovviamente è compatibile con l'app Android e app iOS e ancora una volta compatibile con Alexa, IFTTT e Google Home. Considerando che adesso Google Home è finalmente arrivato in italiano e in Italia e Alexa sta arrivando e io lo sto testando in italiano, è sicuramente un prodotto molto interessante. Ci sono vari comandi che è possibile impartire, quindi ve ne faccio vedere qualcuno. In questo momento state vedendo una configurazione appunto abbastanza standard se vogliamo, ovvero quella del Google Home è accanto al Tado Clima che stiamo recensendo. Posso quindi impartirgli dei comandi, ovviamente dovrete aggiungere il vostro account di Tado all'interno dell'applicazione di Google Home sul vostro smartphone, dopodiché potrete tranquillamente controllarla assegnandogli un nome, nel mio caso il suo nome è ClimaSalotto, e posso controllarlo attraverso Google Home. Hey Google, imposta ClimaSalotto su 26 gradi. Ok, imposto ClimaSalotto su 26 gradi. Ok, ha già impartito il comando e il climatizzatore si sta già accendendo. Hey Google, spegni ClimaSalotto. Certo, spengo ClimaSalotto. Avete forse sentito anche il beep dello splitter che in questo caso si è spento, poco sopra le nostre teste, che appunto ha ricevuto il comando. Hey Google, qual è la temperatura di ClimaSalotto? ClimaSalotto è spento e al momento ci sono 29 gradi. Beh, fa un po' caldo, stavo registrando il video, dopo un pochino climatizzerò sicuramente la stanza. Hey Google, metti ClimaSalotto in modalità riscaldamento. Ok, metto ClimaSalotto in modalità riscaldamento. Quello che ho fatto ora è dirgli che tutte le prossime temperature che gli derò d'ora in poi servono a riscaldare la stanza, quindi per far sì, avete sentito il beep, per far sì che d'ora in poi, se io gli dico 27 gradi, siano 27 gradi di calore e non 27 gradi di fresco. Questo ovviamente dovete farlo sostanzialmente una volta all'anno o due volte all'anno per passare dalla modalità invernale a quella estiva. Hey Google, metti ClimaSalotto in modalità raffreddamento. Va bene, metto ClimaSalotto in modalità raffreddamento. Bene, questo è sostanzialmente, avete sentito un altro beep, questi sono i comandi più importanti, quelli che sostanzialmente appunto sono anche disponibili sulla pagina di Tado, che potete dare tramite Google Home e presto tramite Alexa, Amazon Alexa. In più è compatibile con EFTTT, quindi potete tranquillamente far sì che se un certo termostato trovi una temperatura di tot gradi, lo accenda oppure lo spenga in un certo caso, insomma potete fare molte cose. Hey Google, spegni ClimaSalotto. Ok, spegno ClimaSalotto. Con il mio ultimo comando di raffreddamento l'avevo anche acceso e quindi adesso l'ho spento definitivamente. Queste sono alcune delle cose che si possono fare tramite il vostro Google Home, ma è ancora più interessante se vi faccio vedere quello che si può fare dall'applicazione, che poi è quello che si può fare anche dal sito web. Eccoci qua, questa è l'applicazione di Tado, l'ultimo comando che gli ho dato è stato tramite Google Home e quindi in questo caso è stato di spegnere definitivamente il climatizzatore. Se io premo su questa X vado a disattivare l'ultima impostazione manuale e a tornare nella programmazione. Vi parlavo di programmazione, se voi andate qui in questo caso lo vedete, la mia programmazione è di stare perennemente spento, ma si può fare una cosa, per esempio dalle 21 a mezzanotte posso dirgli di raffreddare su 26 gradi, mentre invece posso aggiungere magari un'altra zona qui e possiamo fare dalle 18 e 30 alle 21 invece di raffreddare ancora di più, voglio stare veramente in congelatore e mettere 24 gradi. In più potete decidere una temperatura per quando siete fuori casa, io ho messo ovviamente che quando sono fuori casa lo voglio spento, ma potete anche impostare una temperatura per quando nessuno è in casa. Quest'altro tasto serve a riguardare un po' qual è la programmazione, insomma il calendario di come è andata. Queste zone nere, lo vedete, sono quando il clima è entrato in funzione e qui per fortuna dimostra che ha palesemente funzionato, poi alle 8 sono uscito, non sono riuscito ad arrivare a 27 gradi che avevo impostato perché sono uscito prima che la temperatura scendesse abbastanza. Quali impostazioni sono disponibili? Se andiamo qui nelle impostazioni e in clima salotto, vediamo che è possibile ovviamente dare un nome a questo climatizzatore, ma molto importante è scegliere qual è la variazione di temperatura massima che il nostro Tado può dare al climatizzatore per raggiungere più o meno velocemente la temperatura desiderata. Possiamo anche dirgli per esempio che se io gli dico 25 gradi, lui può anche azzardare 24 o 26 gradi. Ok, adesso sta inviando la modifica ai server. E poi una durata minima di accensione e spegnimento, ovvero non vogliamo che faccia troppo spegni-accendi, spegni-accendi e quindi possiamo impostare questa cosa. Cosa molto interessante è questa, il controllo manuale del dispositivo Tado, ovvero cosa succede se io lo controllo tramite Google Home, si intende questo per manuale. Avete visto prima, io gli ho impostato di stare spento e lui ha sovrascritto la nostra decisione del calendario. Ma possiamo decidere per esempio che di impostare un timer, quindi un'ora, tutti i comandi che io do su Google Home durano un'ora, dopodiché torna alla programmazione standard, oppure fino al prossimo avvio automatico. Quindi in questo caso avevo impostato che alle 6 devi andare su 24 gradi, mi pare, quindi io adesso imposto una cosa con Google Home, ma poi alle 6 tornerà tutto normale perché ho messo questo. Quindi molto molto interessante, il controllo manuale è anche questo, quindi quello che posso dare da qui. Questa è sostanzialmente un po' il telecomando. Modalità raffreddamento, modalità riscaldamento, acceso, spento, la temperatura e poi quanto deve durare. Quindi di nuovo finché io non cambio idea, per un certo timer fino al prossimo cambio automatico. Il timer per esempio è comodo se volete andare a letto col fresco ma non volete che sia acceso tutta la notte, mettete mezz'ora, lo fate rinfrescare un po' la stanza e poi mentre voi vi addormentate lui penserà a spegnere invece il condizionatore. Questo è quindi tutto quello che dovevate sapere sul Tado Clima seconda versione, vi manca da sapere forse il dato più importante, ovvero il prezzo. 179 per questo, 299 quindi leggermente scontato per il kit da due. Un prezzo quindi diciamo non certamente contenuto, sicuramente il prezzo può essere considerato dal punto di vista di risparmio energetico, secondo me più che altro se utilizzate il condizionatore per scaldare la vostra casa, visto che ovviamente nei mesi invernali si tende a tenerlo acceso probabilmente anche più di quanto lo si tiene acceso nei mesi estivi. In ogni caso quindi sicuramente è più la comodità, secondo me la semplicità di utilizzo nella propria casa rispetto al reale guadagno. C'è sicuramente un reale guadagno sul lungo periodo, visto che lui vi permette per esempio di non dover tenerla sempre acceso o accendere magari molto prima programmandolo col telecomando un condizionatore per scaldare la propria casa, quando poi magari un giorno tornate tardi dal lavoro e quindi rimane acceso inutilmente oppure non tornate proprio a casa eccetera eccetera. Quindi in molti casi di uso può farvi anche risparmiare, ma secondo me il vero vantaggio di questo Tado Clima seconda versione è il fatto di rendere il tutto sicuramente molto più comodo. Cose che non cambiano è ancora solo wifi 2.4 quindi di per sé non è un grande problema, ma se avete una situazione di sovraffollamento di reti a 2.4 GHz potrebbe esserlo, quindi questo sicuramente già lo sapete se avete eventualmente problemi e il fatto che ovviamente non può cambiare l'idea di base, ovvero che lui emette infrarossi. Gli infrarossi non possono superare i muri e vengono inviati diciamo broadcast a tutta l'area attorno a sé e quindi sostanzialmente diciamoci chiaramente questo non può controllare più di un condizionatore, più di uno splitter alla volta. Ve ne servirà quindi uno per ogni splitter e questo è chiaro, sempre che non vogliate spostarlo manualmente, ma non vedo veramente il senso di una scelta del genere. Potete comunque se volete magari staccarlo e portarlo nella casa estiva, quello sicuramente sì. Per questa recensione di Tado Clima versione seconda è tutto, per maggiori informazioni potete andare sul nostro sito smartworld.it dove trovate la recensione testuale completa. Un saluto da Imanale Cisotti per smartworld.it